Grazie a tutti. Tutti gli operativi non sentinels sono da considerarsi utili. Eliminateli. Ti hanno preso! Contatto! Metto un altro caricatore! Ok! Sul tetto dell'edificio di manutenzione! Perfetto! E ne è uno all'ingresso! Capito? Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! Non so! Non so! Non so! Non so! Va bene! Versaglio all'auto della comunità! Versaglio all'auto! 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 Versaglio all'auto!